La nazionale spagnola di Basque, superfavorita per la vittoria degli europei che si stanno giocando a Istanbul, è stata eliminata a sorpresa questa sera dalla Slovenia, una squadra che dall'inizio del torneo non ha ancora perso. La partita è finita 92-72 per la nazionale slovena. Nella Slovenia giocano tra gli altri Goran Dragic, Miamia Eat, e il 18enne Luka Doncic, Real Madrid, il giovane europeo più talentuoso e forte da molti anni a questa parte e probabile scelta di vertice di una squadra NBA il prossimo anno. Anche stasera Doncic ha fatto una partita incredibile per un giocatore della sua età. Ha segnato 11 punti, preso 12 rimbalzi e servito 8 assisti.